Sì, grazie per la linea. Questa mattina l'appuntamento per discutere di democrazia che è il tema principale di questa cinquantesima settimana sociale qui a Trieste. Anna-Lisa Caputo, docente di filosofia, ha indicato come abitare e costruire la casa comune della democrazia, ossia attraverso uno sforzo che è allo stesso tempo individuale e comunitario. Michele Nicoletti dell'Università degli Studi di Trento si è soffermato sulle sfide presenti che la democrazia deve affrontare. Intanto i partecipanti a questa settimana sociale hanno fatto proprio il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura di ieri. Battersi affinché non ci possano essere analfabeti di democrazia è una causa primaria, nobile, che ci riguarda tutti, ha detto il Capo dello Stato, ieri appunto, che ha ribadito il no a un'autorità senza limiti. Il Cardinale Zuppi invece ha espresso preoccupazione per il pericolo dei populismi che ha detto se non abbiamo memoria del passato possono privarci della democrazia o indebolirla. E allora ascoltiamo proprio l'intervista al Presidente della CEI che abbiamo realizzato questa mattina. Eminenza, certamente siamo all'inizio di questa cinquantesima settimana sociale, ma quali prospettive, quali visioni propone in questo momento la Chiesa? Innanzitutto una grande visione, un'unica grande visione, che è quella di guardare al futuro, di seminare al futuro il futuro, di andare al cuore della democrazia, che vuol dire la persona, in particolare le persone più fragili, e di dal basso far funzionare ciò che permette di combattere il contrario della democrazia, che vuol dire quando c'è soltanto uno che comanda sugli altri o quando ci sono altri poteri che comandano sulla gente, c'è molto da fare, c'è molta partecipazione da far conoscere e che deve coinvolgere tanti, c'è da ricreare la fiducia nella politica, nell'impegno, nell'interesse comune, nella cosa comune, nel bene comune. E quindi la Chiesa che di queste cose ne ha tanta consapevolezza e sa perché serve, perché al centro si serve per la persona e quando la persona viene usata o la persona non conta più niente, questo è pericoloso per la persona e quindi per la democrazia. Una Chiesa che, come lei ha precisato ieri, non si è autorelegata, un cattolicesimo che non è stato da parte ma ha operato in maniera attiva, per i fragili, per le persone e contro le furbizie. La Chiesa, per fortuna, per grazia, perché ha vissuto la stagione del concilio, ha saputo unire, con tutte le difficoltà del caso evidentemente, lo spirituale e il sociale. E quindi il sociale è il ricco dello spirituale e lo spirituale trova tanta consapevolezza, tanta profondità proprio dal sociale. Credo che questa unione profonda, non c'è l'una senza l'altra, direbbe, avrebbe detto Papa Benedetto, amore e verità, sono profondamente unite e credo che questa è una forza della Chiesa, della Chiesa italiana in particolare. Quale stagione parte per la Chiesa da Trieste? Io penso una stagione di grande consapevolezza, di grande sguardo al futuro, in un momento di grande difficoltà e quindi anche di tanta speranza. Non si fanno queste cose se non c'è speranza. Credo che è la migliore introduzione anche a Giubileo. Cioè guardare con speranza il nostro futuro e pagare anche il prezzo. La speranza ha un prezzo, noi facciamo pagare gli altri, no, no, dobbiamo cominciare a pagarlo noi. Accanto a me, Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Oionio e vicepresidente della CEI. Intanto eccellenza, ben trovato. Che cosa significa andare al cuore della democrazia che è il tema di questa settimana sociale qui a Trieste? Significa innanzitutto, e mi scuso con coloro che ascolteranno questa intervista perché è un abbassamento di voce a causa dell'aria condizionata, ma non volevo sottrarmi a questo dialogo con Teledeon, che è una TV che stimo e che incoraggio sempre a seguirla proprio perché cercate di mettere insieme contenuti, fini e anche metodi. Beh, significa innanzitutto prendere coscienza che la democrazia è in crisi. Ci sono segni oggettivi di questa crisi della democrazia. Siamo preoccupati che molto spesso la democrazia rischia di diventare autocrazia. Pensiamo per esempio alla scarsa partecipazione al voto, pensiamo alle grandi disuguaglianze, pensiamo alla mancata delle opportunità che vengono date a tutti, pensiamo ad un impoverimento che cresce sempre di più per cui si sta affermando quasi un paradigma culturale secondo cui le cose non possono cambiare. Quindi c'è una sorta di... si si arrende o al fatalismo, o al pessimismo quasi cosmico, istituzionale e sociale. Io invece sono convinto, e qui la grande scommessa di questa cinquantesima settimana sociale dei cattolici in Italia, questa è una grande scommessa dove attraverso il confronto, il dialogo, attraverso anche, come dire, il prendere coscienza della dura realtà, dobbiamo cercare insieme, qui è importante insieme, attraverso il dialogo, tra solo organismi di partecipazione, dobbiamo soprattutto tutti attivarci perché? Per attivare processi di cambiamento. E mi piace dire che il cambiamento ha o è il cognome e il nome di ciascuno di noi. Eccellenza, in questi mesi è stato importante, è importante l'impegno civile, civico della CEI? Tra le altre battaglie, quella sull'autonomia differenziata, lei in prima linea? Beh sì, noi abbiamo parlato, ma non per appartenenza politica, ma perché ci sta a cuore la vita, la condizione di vita del nostro popolo. Il profeta Isaia dice, per amore di Sion non taccerò. Abbiamo parlato perché il nostro comodo di pastori è quello di, come dire, di essere vigilanti su tutto ciò che accade nel mondo, nella storia dei nostri territori. Io mi sono molto impegnato e mi impegnerò ancora di più sui problemi dell'autonomia differenziata perché ritengo che questa legge attiva soltanto la giustizia formale, non sostanziale. Questa legge determinerà ancora di più l'impoverimento dei nostri territori e soprattutto la cosa che più mi preoccupa è che la non determinazione dei LEP, dei LEG e la scomparsa del fondo di perequazione in questa legge a mio avviso mi fa dire che questa legge purtroppo determinerà una sorta di far west in Italia. Avremo un'Italia ad Arrecchino e ancora una volta ci saranno due o tre Italie diverse e ancora di più noi del Sud saremo purtroppo quasi direi vincolati ad un impoverimento sempre più grave. Questo non significa evidentemente che non deve nascere un nuovo protagonismo sociale, direi anche un nuovo rinascimento da parte di tutti i cittadini e cittadini del Sud. Noi siamo contro anche l'assistenzialismo, noi siamo anche qui per una visione di welfare generativo, un welfare community, un welfare society, quindi no questa legge, una legge che va a mio avviso ripensata, ristrutturata completamente e soprattutto nell'articolo 3 e nell'articolo 5, ma direi nella sua impostazione oggettiva e ma da parte nostra del Sud un nuovo protagonismo sociale. Grazie, grazie eccellenza e buon lavoro. Io intanto restituisco la linea allo studio e ai prossimi aggiornamenti.